Tanto vi saluto, sono già in aeroporto, la partenza a questo viaggio di ringraziamento, il viaggio, certamente penso di dire grazie dopo 25 anni di mio sacerdozio, ma grazie a San Charbel perché ho incontrato lui nella mia vita. Dopo tre anni che sto tornando lì, certamente sto portando ciascuno di voi, ogni vostra intenzione, ogni vostra richiesta, con umili, con cuore umile, chiederò veramente davanti alla sua tomba per queste intenzioni, sono arrivate migliaia di queste richieste, ma il Signore che decide, affidiamo tutta Maria, a San Charbel, a San Giovanni Paolo II e a tutti i santi, pregate per me domani, se Dio vuole, davanti alla sua tomba, celebrando la messa, offrirò tutto questo. Signore vi benedica, pregate per me, prego per voi, sia lodato Gesù Cristo.